Grazie a tutti. La famiglia cristiana ha sempre tantissime storie da raccontarci. Questa volta in copertina c'è Ilari Blasi che ci fa pensare naturalmente allo sport attraverso il celeberrimo marito Francesco Totti, ma ci fa anche pensare a come appunto la personalità femminile possa essere interpretata non solo attraverso la bellezza. Uniti siamo tutti più forti in Europa ma anche in casa, alla guida del nuovo Giochi senza frontiere Ilari Blasi. E' molto interessante anche l'esclusivo documento sulle riflessioni inedite di Sandro Pertini che riguardano anche l'aldilà. Pertini è stato un monumento, potremmo dire, della storia italiana a metà del ventesimo secolo, anche se noi tutti ricordiamo soprattutto la fase conclusiva della sua lunga carriera, cioè quando è stato presidente della Repubblica. Però io oggi voglio dare la precedenza a un'altra figura, un uomo certamente non celeberrimo come i due personaggi, se vogliamo che vi ho appena citato. L'Italia che accoglie un racconto di Eugenio Arcidiacono con le foto di Attilio Rossetti, massimo del bene, qualcuno dirà nomen omen visto il suo cognome, chirurgo al San Gerardo di Monza, opera migranti con gravi ferite agli arti superiori, inferte nei campi libici. Ecco come la vita torna nelle loro mani. È un chirurgo abbastanza in età, potremmo dire che la sua carriera è certamente almeno trentennale e nello scatto mostra anche la lastra di un migrante cui era stato rotto il braccio e poi c'è di molto peggio, più impressionante. Giustamente si parla anche di radiografie dell'orrore, ad esempio come si presentava la mano di un ragazzo ganese, cui appunto non vorrei nemmeno dover specificare le torture a cui è stato sottoposto. Diamo più spazi appunto a chi cerca di rimediare. Le mani a volte più del viso possono raccontare la vita ad una persona. Alcuni di questi, di questi uomini martoriati come Mohammed, vent'anni, hanno avuto delle torture talmente incredibili che appunto non le si racconta neppure. Però attraverso Caritas a uno, a tanti per meglio dire, di questi poveri ragazzi capita anche di finire sul lettino di un ospedale dove appunto li si cura. All'ospedale di San Gerardo a Monza, gli è andata bene, qui si parla di un ragazzo a cui la mano non è stata del tutto staccata e che per fortuna ha avuto poi questo chirurgo che dopo tre operazioni l'ha potuto riportare comunque a un uso dell'arto. Da due anni cura gratuitamente persone che vengono dalla Libia. La Caritas li porta e paga le spese per il ricovero. Di tutto il resto ci occupiamo noi. E questo chirurgo ci tiene a sottolineare di essere un tecnico, non un politico. In questa veste comunque si arrabbia quando qualcuno dice che le torture sono invenzioni per cui si possono rispedire indietro. Lui dice ho le cartelle cliniche, le lastre, le foto, tutto è documentato. E si parla anche di minorenni, si parla di lesioni terribili e lesioni anche a volte chiamate inveterate, cioè avvenute due o tre anni prima di quando il chirurgo le vede. Se una persona finisce al pronto soccorso, ad esempio sul lavoro, capita che ci si ferisca, so bene come intervenire, ma di fronte a queste mani ogni volta mi invento qualcosa per ridurre il più possibile il danno fatto. Cosa vuol dire inventarsi qualcosa? Sembra incredibile. Ovviamente si parla anche di chirurgie di precisione, di microchirurgia quando si parla della mano. E invece appunto questo chirurgo è stato capace di restituire anche con qualche salto mortale in sala operatoria, staremmo per dire ingenuamente, una speranza in chi i segni li porta comunque anche nell'anima e nella psiche, ma che almeno ha potuto vedere l'altra faccia, potremmo dire, dell'umanità. Ma perché ci si accanisce proprio sulle mani o sulle braccia da parte di questi carcerieri terribili? Perché se una persona rompe una gamba non può più muoversi e quindi per il suo aguzzino diventa un peso. Non ci sono donne tra i casi di cui del bene si è occupato, ma solo perché per loro il metodo di tortura risulta lo stupro sistematico. Una mia amica pediatra ha lavorato su una nave che prestava soccorso in mare. Tante donne erano in stato interessante come risultato delle violenze subite. Quando se li trova davanti questi giovani che raramente superano i 20 anni, restano tutti in silenzio. Evidentemente lasciano che appunto i loro arti parlino di quello che hanno dovuto subire. Tutti confermano la connivenza tra i carcerieri e gli uomini della guardia costiera libica. Ecco, questo è un elemento importante, cioè che poi magari qualcuno di questi giovani si apra e racconti perché si possa risalire meglio alla situazione. Con prove, potremmo dire, che più schiaccianti non potrebbero essere. Ma naturalmente soprattutto la bellezza comunque di poter parlare anche di chi conosce e capisce che non c'è mai qualche cosa di impossibile quando c'è la vita, cioè che comunque si possa rimediare andando avanti. E' questo anche l'importante della lezione naturalmente per cui siamo tutti ammirati anche in qualche modo confortati. Ma mentre passiamo alla pagina internazionale con una curiosa foto di copertina che ci rimanda al prodotto eco e solidale per eccellenza di tanti anni fa, cioè appunto le banane, voglio già anticiparvi che tra poco ritorneremo invece a parlare di atmosfere completamente diverse. Intanto però facciamo un passaggio attraverso la spesa definita anche irresponsabile. Il commercio eco e solidale è nato per tutelare i piccoli produttori e i loro dipendenti. Oggi è in crisi sotto l'assalto di certificazioni senza valore e abbandonato dalla grande distribuzione. Molto interessante dunque cercare di ricordare anche come sono nate delle modalità differenti di cercare il prodotto giusto. L'eco e solidale ci si domanda se esista ancora, sembra quasi che la globalizzazione non ci abbia quasi più garantito di poter davvero aiutare anche da parte di noi consumatori della parte ricca appunto del pianeta a garantire un po' più di equità se non di giustizia. In copertina troviamo anche altri prodotti che sono appunto gli ananas, altra frutta tipica di luoghi lontani da noi. E il Guardian con Samant Subramanian, quindi siamo nel Regno Unito, siamo in una delle testate più importanti. Sapete che questo giornale internazionale riassume appunto un po' il meglio di tante testate da tutto il mondo. Ci parla della consapevolezza sulle distorsioni della globalizzazione. Fino a pochi anni fa una banana poteva essere solo una banana, frutto ricurvo e giallo. Nel 1986 l'unica cosa da sapere era quanto costavano al chilo. Nessuno si chiedeva se fossero biologiche o senza pesticidi, se venivano dalla Costa Rica o dalla Repubblica Dominicana. Nessuno si preoccupava degli agricoltori che le avevano coltivate. Poi invece c'è stata appunto una grande rivoluzione. Perché lo ricorderete, soprattutto per quel che riguarda il boom poi degli anni 90, anche oggi magari si acquistano tavolette di cioccolata cercando di trovarne da parte appunto dei distributori che poi danno parte del ricavato a persone che vivono in condizioni differenti da quelle del nord ricco del mondo. Eppure tante cose sono cambiate. Sono cambiate per un effetto perverso che viene raccontato con molti dettagli qui su Internazionale, mostrando anche scatti di fiori, di piante dalla Germania, ma anche con un grafico dei produttori cosiddetti certificati. E soprattutto scoviamo e ritroviamo, potremmo dire, perché molti lo conosceranno, il marchio Fair Trade. Proprio lì, proprio a questo ci siamo agganciati quando volevamo fare una spesa diversa e consapevole e solidale appunto. Il fiore all'occhiello del movimento era Fair Trade International, un'organizzazione nata nel 1997 dall'unione di vari consorsi nazionali. Il cuore della sua filosofia è sempre stato il prezzo. Se le aziende pagano gli agricoltori in modo equo, sostiene Fair Trade International, si possono assumere lavoratori adulti, si possono mandare i figli a scuola e non far lavorare i bambini. Questo è il sottinteso, questo è quanto ancora oggi dovremmo imparare a conoscere, perché purtroppo c'è anche chi, magari parlando di commercio equo e solidale, si guarda con aria interrogativa, mostrando di non essersene mai preoccupato. Oggi però le maggiori aspettative di sostenibilità che Fair Trade ha contribuito a diffondere in tutto il mondo stanno producendo un effetto perverso che prepara il terreno alla fine del movimento. Le aziende perdono fiducia in marchi come questo, non solo nella loro capacità di mettere al sicuro il futuro dell'agricoltura, ma proprio nel valore di questi bollini indipendenti di sostenibilità. Per quale motivo? Ci sono tanti differenti motivi. Le multinazionali stanno prendendo in mano la situazione, il che naturalmente fa cambiare decisamente lo scenario. Ecco quella famosa contrazione del mondo che diventa sempre più piccolo, ma anche, potremmo dire, questo modo di tagliare piccoli rami o di rendere asciutti piccoli rivoli che invece permettevano appunto una sopravvivenza diversa. Ovviamente il discorso è molto molto complesso. Io vi faccio vedere anche un altro grafico riguardo alle vendite solidali, miliardi di euro, eccolo qua. Ovviamente c'è una serie di anni relativamente piccola, perché le realtà consolidate sono appunto soltanto recenti e ci sono immagini anche di lavoratori, nonché alcuni dati che riguardano il nostro paese, dove nonostante tutto ancora si può fare qualcosa. In Italia il movimento del commercio eco e solidale è rappresentato da tre organizzazioni, Eco Garantito, Fairtrade Italia e l'Associazione Botteghe del Mondo. Ricordiamoci dunque, nel 2017 Eco Garantito aveva 202 negozi e la vendita dei soli prodotti di commercio eco ha fatto incassare 58,4 milioni di euro. Il valore delle importazioni da 195 produttori è stato di 13,8 milioni di euro. Fairtrade Italia vende 700 prodotti in più di 5.000 punti vendita. Il valore del venduto è di 110 milioni di euro. Infine il terzo fattore o marchio è Botteghe del Mondo, appunto, una rete di 70 organizzazioni no profit per un totale di circa 150 punti vendita. E dopo questo abbiamo bisogno di una sosta ancora una volta dentro la vita di San Francesco con le parole nitide e affascinanti di Chiara Frugoni. C'è la chiesa che è sempre in armi, la chiesa in armi contro gli eretici, la chiesa in armi contro gli infedeli, così vengono chiamati, in terra santa, che sono invece di un'altra religione. E ci sono anche però le guerre, le guerre politiche fra imperatore e papa. Quindi è una vita tutta di guerra e la gente addirittura era stupita e all'inizio prendeva per pazzi questi francescani che dicevano pace. Era qualcosa che sembrava impossibile. E invece questo è il saluto francescano, quindi è uno dei punti importantissimi di Francesco. Quindi questo cantico, e adesso ne vediamo poi la fine, è un cantico che distilla veramente i punti qualificanti della visione di Francesco. E poi passa ancora del tempo e a un certo punto il medico gli dice che ormai ha poco da vivere. E allora Francesco chiama frate Angelo e frate Leone, che sono i suoi amici più cari, insieme a Rufino, e aggiunge un'altra strofa e chiede che gliela cantino. Ed è laudato, sì mio Signore, per sore nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scampare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che alla morte seconda, cioè il giudizio universale, non li farà male. Laudate e benedicite, mi Signore, e ringraziate e serviteli con grande umiltate. Ecco, allora i due frati appunto in lacrime ubbidiscono, cantano, e a questo punto il cantico delle creature con Francesco che si avvia alla morte è veramente concluso. Vi avevo detto che nel cantico delle creature uno dei punti, il punto centrale, è quello appunto del perdono. E allora a questo punto leggiamo questo brano della perfetta Letizia, dove di nuovo sentiamo la voce di Francesco. Ecco, io vorrei anche sottolineare che dovremmo tornare a leggere le poche cose che ci sono giunte da Francesco, perché di solito noi parliamo sempre di Francesco attraverso le biografie, diciamo Tommaso d'Acelano dice così, Buonaventura dice così, e finisce che ignoriamo quello che invece ha detto Francesco. E ci sono delle lettere molto belle sulle quali bisognerebbe meditare. Comunque, leggiamo adesso questo brano della perfetta Letizia. Ed è un brano, secondo me, estremamente interessante, perché ci permette di vedere contro luce il carattere di Francesco. Cioè noi abbiamo anche delle fonti, per esempio c'è la leggenda dei tre compagni, che sono appunto i compagni di Francesco che ci hanno raccontato la sua vita, ed è una fonte preziosissima perché ci permette di vedere anche l'umanità di Francesco. E secondo me in questo modo è più facile e più semplice veramente ammirare la sua santità. Cioè ci fanno vedere anche il suo carattere umano, anche i suoi difetti. Cioè Francesco aveva, si può dire proprio, era un megalomane, e quando era giovane pensava appunto, era ambiziosissimo di fare un grande salto sociale, di diventare un cavaliere, di sposare una donna nobile. La sua stessa visione è una visione veramente, potremmo dire, megalomane, anche se è cambiata di segno. Quando lui per esempio ancora è proprio un frate alle prime armi, ha ancora proprio pochi compagni, ricordiamo non c'è ancora nessuna regola, quindi è proprio una comunità, non è un ordine. E comincia a mandare i suoi frati di qua e di là, anche un po' allo sbaraglio, e a un certo punto incontra frate Ugolino, che diventerà poi Gregorio IX, Papa Gregorio IX, e gli dice ma dove vai Francesco? E lui dice ah io adesso sto andando in Francia. E allora Ugolino gli dice ma no, fermati, perché se fate così la vostra comunità sdisfa. E dice quindi stai qui, anche perché se stai qui noi, io e altri cardinali, possiamo aiutare la tua comunità a andare avanti. E allora Francesco gli risponde, ma in una maniera che veramente fa impressione, perché pensate che questo è un piccolo frate che sta parlando a un legato pontificio, a un'autorità enorme nella chiesa, e gli dice ma credete messere, che Dio abbia mandato noi frati solo per parlare a questi cristiani qua in Italia, ma Dio in verità vi dico, e quindi usa addirittura il linguaggio evangelico di Cristo, in verità vi dico, Dio ci ha mandato per il mondo intero e per parlare anche agli infedeli, e i frati saranno sempre ricevuti, cioè lui già all'inizio ha questa visione universale, e di nuovo straordinaria, di non appunto sconfiggere chi è di un'altra religione, o fisicamente o con le dispute, ma di convertirli, e questo è qualcosa che in quel momento nessuno pensa di fare, questa è una cosa da sottolineare, cioè la chiesa non pensava mai di convertire, pensava di sconfiggere, cioè c'erano le liti, le dispute, per cui a un certo punto, per esempio, non so, si cercava di mettere in difficoltà gli ebrei, in modo tale che a un certo punto venissero sconfitti dai buoni argomenti dei domenicani, per esempio, ma mai si era pensato veramente di convertire, e invece Francesco ha questa, questa è la sua idea. Allora, tornando alla perfetta Letizia, noi vediamo in filigrana, in realtà, anche se sublimati, il carattere di Francesco, che è una persona straordinariamente ambiziosa, che ci tiene al successo, ma che è riuscita a dominare questi sentimenti così umani e appunto a liberarsene, perché la sua idea è quella di avere la mente libera, come del resto Santa Chiara, che è una santa straordinaria, purtroppo messa molto di lato, e che invece non solo, vedete come parla di San Francesco, quindi chiaramente si capisce che è un santo che amo molto, ma devo dire che Santa Chiara per certi lati ha portato avanti e migliorato il progetto di San Francesco, ora non c'è tempo di parlare di questo. E qualche istante anche per anticipare la storia di Copertina, dalla quale ripartiremo nella prossima puntata, con luoghi dell'infinito, l'Italia dei monaci, uno speciale, straordinario, ricchissimo di fotografie. Tra l'altro andremo anche a rivedere meglio alcuni scatti dell'isola di San Giulio d'Orta, ne abbiamo parlato a proposito di Anna Maria Canopi, la badessa e fondatrice del monastero Mater Ecclesi è così importante per la spiritualità ritrovata negli ultimi decenni, ma naturalmente c'è anche grande spazio proprio alle origini dell'Italia dei monaci, come viene raccontato in questa didascalia. Medioevo e monachesimo sembrano quasi inscindibili, è impossibile comprendere quel luminoso periodo della storia senza la civiltà generata dai monasteri, rete fisica e spirituale che plasmò l'Europa nella sua insuperata unità di fede e cultura. E come sappiamo ai nostri giorni queste vicende, ma soprattutto il lascito, l'eredità di quelle straordinarie vite è sempre più importante. Anche per questo ci ritorneremo insieme. Salute Grazie a tutti.